Con Enrico Veracchio al termine di Nuorese al Balonga un po' di rammarico perché nonostante 70 minuti di inferiorità numerica la Nuorese ha fatto una grande gara. Sì, non era facile perché siamo rimasti in 10 dopo neanche 20 minuti, è stata una partita di sofferenza però siamo stati bravi a riprendere due volte il risultato e quindi tutto sommato va bene così. Oltre alla prestazione è anche una squadra che si è saputa sacrificare con giocatori come te che hanno dovuto interpretare ruoli un po' diversi rispetto al solito. Sì, sì, io come tutti gli altri mi metto a disposizione, è normale che non avevamo attaccanti perché Roberto adesso sta rientrando, Alonzi era squalificato e quindi ci siamo dovuti un po' adattare. Però secondo me abbiamo fatto una buona partita nonostante tutte le difficoltà quindi prendiamo quello che c'è di buono e prepariamoci per la prossima partita. Qualche episodio discutibile di troppo sul fronte dell'arbitraggio, oggi forse l'arbitro ha un po' perso la bussola a un certo punto. Ma sì, sicuramente qualche errore c'è stato però anche gli arbitri possono sbagliare quindi l'importante è che non dobbiamo stare a guardare queste cose ma continuare a lavorare per sfruttare queste ultime partite e raccogliere più punti possibili. Grazie. Grazie.